Maria Sofia, oltre la sua carriera di attivista che lotta ogni giorno per cambiare il mondo in modi come questi, o come questi, dobbiamo espandere le nostre vedute realizzando che anche le femmine delle altre specie sono viste come degli oggetti, essendo sfruttate tramite il loro apparato riproduttivo per il latte, per le uova e per dare alla luce cuccioli da macellare. Ha anche sbloccato un'altra strada di fronte a lei, ovvero la via del canto. E tutti sappiamo che canto più attivismo uguale Elodie, e sappiamo tutti che Elodie non l'ha per nulla buttata di fuori con alcune sue dichiarazioni. L'uomo ha paura della donna perché la donna crea, misoginia, comunque la paura del diverso è perché tu ci vedi qualcosa di meglio di te. E io sono convinta di questo, è che gli uomini hanno paura di noi perché noi siamo speciali. Quindi oggi sono qui per reagire alla nuova canzone di Maria Sofia. La prima e ultima volta che l'ho fatto ho avuto effetti collaterali come incontinenza, nausea, giramento di testa, tremolio delle mani, e molti hanno riportato sintomi più gravi come dissenteria, sviluppo di neoplasie varie. Insomma, sono stato fortunato pur nella sfortuna. Dato che ho paura, prima di ascoltare questa nuova disgrazia, fatemi ringraziare gli abbonati che mi danno forza. Ormai gli abbonati hanno ricevuto l'attestato di immunità, quindi le cantine delle Sportus Industries non serviranno a rinchiudere le loro famiglie, finché pagheranno regolarmente, e io direi adesso di gustarci come antipasto i commenti sotto la canzone di Maria Sofia. Maria Sofia, non ascoltare i complimenti. Questa canzone ha solo un difetto, inizia. Maria Sofia dopo la droga, sembra fatta con la i per quanto fa c***are, le str***ate che scrivo nel blocco note del telefono, due punti, ma bellissima. Non credevo si potesse fare schifo in così tanti settori diversi tra loro, questa è molto cattiva. E poi c'è il mio commento preferito, sembra sia stata affetta da un doloroso grappolo di amoroidi infiammate. Che immagine è poetica ed evocativa questo commento. Ok, riscaldamento fatto, è arrivato il momento. 3, 2, 1, play. Oddio, non mi sento benissimo. Cristo, ma le frasi sono sconnesse, cosa vuol dire? Ma Cristo, ma con... ma... Non... non mi sento bene. Ho... ho bisogno... Non... Ragazzino venne diagnosticato con dei problemi all'arteria coronaria sinistra e alla coronaria destra. Vuoi andare a fare una passeggiata al parco? No, mi spiace, ti tocca sederti sul divano a fare il quinto rewatch dei Simpsons di fila. Si chiamava malattia di Kawasaki, ma non ci ho mai capito troppo di moto. Causa vasculite. Una malattia che si chiama come una moto da cross avrebbe richiesto un intervento a cuore aperto, il che era quasi buffo. Altrimenti, boh, non ci capivo molto, però infarto o rottura delle coronarie non suonava benissimo. Beh, non suonava troppo bene neanche essere scavato nel petto, comunque. Nel dubbio sarebbe stata l'unica opzione che avrebbe consentito di camminare senza strisciare, suppongo, e prima di rendermene conto stavo firmando liberatorie sulla mia vita, ricordiamo per una malattia che si chiama come una moto da cross. Mi svegliai a metà intervento intubato e provai anche a tirare fuori il tubo della mia gola nel panico e nel dolore causato dall'effetto ancora non totale degli antidolorifici mentre venivo trattenuto e immobilizzato sul letto. Quando mi svegliai di nuovo stavolta i tubi erano quattro e venivano fuori dal mio petto e ogni respiro era faticoso e doloroso e i giorni erano lunghi e noiosi. Venne il giorno di rimuovere due dei tubi. Un gracile infermiere non curante del mio nervosismo venne a rimuoverli, ne agguantò uno stringendovi attorno un panno sterile, e mi disse di inspirare profondamente al suo tre. Uno, due, tre. Con un dolore lancinante e la sensazione di qualcosa di vuoto vicino ai miei polmoni, crollai sul letto cercando di tornare in controllo del mio respiro mentre lui sistemava le suture e pensai a qualcosa, qualunque cosa migliore della sensazione di essere stato privato di qualcosa di artificialmente vitale. I giorni seguenti passarono al contempo troppo in fretta e troppo lentamente. Immagino che delle giornate in cui sei stesso sul letto a respirare e dormire siano difficili da vivere ma facili da dimenticare. O molto più probabilmente ero sotto effetto di farmaci. Però riuscii a pensare, a interrogarmi con una vaghissima lucidità sulla mia scelta. Avevo fatto bene? Beh, ero vivo. Avrei avuto incubi ricorrenti per mesi, ma stavo respirando. Ero dolorosamente e faticosamente vivo. E soprattutto, sono qui e ora vivo davanti a te, Svortus, per dirti che le brutte esperienze ti temprano. Torna qui, devi ascoltare questa canzone, so che fa schifo. Lo so, fa schifo, fa cagare. Ma puoi farcela. Ho visto The Room ed è un pessimo film. Ma davvero, fa schifo, tipo, è orribilante. Mal recitato, mal filmato, mal montato, con riprese di San Francisco a caso. Messe in scena orribilante, quasi quanto la recitazione. Wiseau è il regista e il protagonista, di nome Tommy, che nel film è praticamente l'uomo perfetto che senza alcun motivo viene tradito dalla sua compagna Lisa. Lisa nel film si comporta in modo davvero totalmente insensato, a volte malizioso, per il solo gusto del fare del male al protagonista del film, diffamandolo anche senza alcun motivo. Il film è brutto, è molto brutto. Ma è possibile ricavarne un valore critico, quella che viene messa in scena? È una storia di tradimento in cui, a conti fatti, il regista interpreta l'uomo perfetto che viene tradito senza motivo. E questo è interessante, perché nella sua totale ingenuità, il regista, involontariamente perché non l'ha minimamente fatto apposta, ci regala un film in cui è possibile immedesimarsi in un partner che si vede ingenuamente perfetto e non riesce quindi a comprendere minimamente il motivo dell'infedeltà della sua metà. Il film fa schifo, ma è un vero, reale approfondimento sulla reale difficoltà di comprendere il motivo della fine di una relazione da parte di una persona estremamente narcisista. Talmente narcisista che fa un film in cui applica la sua visione della sua versione dei fatti. Quindi Sbortus, sono qui per dirti, anche la monnezza può avere valore pur rimanendo monnezza. Svegliati quindi e ascolta quella canzone. Ok, dai, questa volta posso farcela. Un respiro profondo al mio tre. Uno, due, sai cosa, chi se ne frega. Non devo per forza fare questo contenuto. Volersi male magari è figo ed è intrattenente ma ha un limite. Guarda, la vita è troppo breve per certe robe, ho un sacco di cose da fare, non ho voglia ragazzi. Questo appuntamento di questo video va così, siamo 35.000 e certo che avete standard molto bassi tutti voi in questo momento. Non vi sentite un po' in colpa? Non lo so. Vabbè, dai, alla prossima. Oggi la vostra energia non mi è bastata, mi dispiace. You are lying, I never hit you. You are tearing me apart, Lisa! Why are you so hysterical? Ciao, ciao!